Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni di TV6. Le immagini satellitari ci mostrano chiaramente il rinforzo dell'anticiclone su buona parte del Mediterraneo, solo sull'Europa centrale e al nord, persistono deboli correnti da ovest che determinano un po' di instabilità, ovvero qualche equazione, qualche temporale. In Abruzzo, nel corso di questo mercoledì, avremo tempo nel complesso stabile e soleggiato al mattino ovunque, poi nel pomeriggio qualche addensamento, in arrivo nelle aree interne lungo l'apennino, possibilità di qualche breve temporale, però nulla di particolarmente rilevante, preparerà comunque il bel tempo su buona parte dell'Abruzzo. Le temperature, in grosso modo stazionarie, massime tra i 16 e i 20 gradi, minime tra 6 e 12 gradi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e rivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.